Oggi voglio parlarti dei regali di Natale. Questo qua è fuori di testa completo. Perché ti parlo dei regali di Natale? Perché non so se quando eri piccolo che cosa pensavi i giorni prima di Natale. Immagino che tu fossi lì ad aspettare con impazienza di aprire quei pacchi che magari vedevi sotto l'albero. In cuor tuo speravi che ci fosse dentro qualcosa, speravi che ci fosse quello che avevi scritto nella letterina Babbo Natale oppure Gesù Bambino, e però non vedevi l'ora di aprire questo regalino per avere questa soddisfazione. E poi arriva il giorno di Natale, finalmente puoi aprire i regali, apri il regalo e non è esattamente quello che volevi. Allora in quel momento come ti sei sentito? Non credo super bene per il semplice fatto che ti hai ricreato un'aspettativa, ovvero un'immagine di quello che sarebbe stato quel momento, diversa rispetto a quello che poi è diventato in realtà. Molte volte l'attesa di un regalo è più bella rispetto all'apertura del regalo stesso, perché ti sei costruito un film mentale di tutto quello che dovrebbe essere. Poi quando ti accorgi che non sarà, questa cosa non funziona, non ti fa stare bene. E allora le aspettative hanno una caratteristica. Non funzionano mai e nemmeno con tuo figlio possono funzionare. Perché tu puoi avere due tipi di aspettative. Puoi avere delle aspettative estremamente positive o puoi avere delle aspettative estremamente negative. Se per esempio la tua carriera scolastica è stata estremamente impegnativa, dura, difficoltosa e tuo figlio a sua volta ha avuto delle difficoltà, puoi cominciare a maturare l'idea che non riuscirà mai e quindi avrai un'aspettativa estremamente negativa. Se invece a te le cose sono sempre riuscite bene e magari vedi anche tuo figlio le cose che riescono assolutamente bene, puoi avere un'aspettativa tremendamente positiva. Quindi puoi vedere, già immaginarti che dopo l'ennesimo 8, 9 o 10 lo vedi già laureato con il massimo dei voti nella migliore università del mondo. Ora in entrambi i casi questa cosa non funziona. Perché se l'aspettativa è negativa, su cosa concentrerai la tua attenzione? Su tutto quello che non va. E avrai una conseguenza certa. Ne avrai e ne troverai conferma. Per questo ti basta immaginare cosa succede anche se vai a vedere un film con l'idea che quel film sarà brutto. avrai una sorta di cannocchiale per vedere il puntino dello schermo dove le cose non andranno bene. Ok? E vale anche per le feste, vale per una serie di attività. Quindi andrai a cercare conferma o dell'incapacità di tuo figlio in questo caso o delle tue incapacità come genitore. Se avrai un'aspettativa estremamente positiva o come l'ho chiamata prima tremendamente positiva, ti creerai l'idea che succederà qualcosa di meraviglioso. E non è detto che sarà così. E prova a immaginare, se il tuo obiettivo è che tuo figlio si diplomi con il massimo dei voti, si laurei con il massimo dei voti, troverà un posto di lavoro che gli darà un successo interplanetario, basterà che pertanto così non raggiunga quell'obiettivo che tu nella tua testa avevi già, che sarai deluso. Quindi attenta. Aspettative. Se sono negative, andrai a cercare conferma di quella roba lì. Se sono positive, rimarrai deluso per il fatto che non le avrai raggiunte. Perché ti dico questo? Perché con i figli, con i figli in generale nella vita, è meglio non avere aspettative, ma imparare una cosa. È vivere il presente. Se stai aiutando tuo figlio nei compiti, concentrati su quella cosa lì. Non pensare a quello che sarebbe potuto essere o quello che potrà essere in futuro. Pensa che stai facendo esattamente quella cosa. Da anni, quando insegno alle mie studentesse di psicologia l'importanza dello studio, dell'organizzazione dello studio, devo passare del tempo a spiegare che mentre studiano non devono pensare all'esame. Perché se studi e pensi all'esame, ti sale un livello di tensione incredibile. Mentre studi, stai studiando. Quindi mentre tuo figlio va a scuola, sta andando a scuola. E i risultati della scuola non è detto che saranno i risultati che otterranno domani nella vita. Anche perché la problematica che nasce è che ognuno di noi è nato con delle... ha generato delle aspettative nei propri genitori. Paola, la mia collega, dice sempre che ognuno di noi nasce con due gemelli. Uno si chiama dovresti e l'altro potresti. Quindi tuo figlio è sempre... dovrebbe essere sempre qualcosa di diverso o potrebbe essere sempre qualcosa di diverso. E tu stesso dovresti essere qualcosa di diverso per gli altri o potresti essere qualcosa di diverso. Quindi l'indicazione che ti do per oggi è prendi le aspettative, fai un pacchettino e lasciale da parte. Perché non ti servono, non producono risultati e non danno soddisfazioni. Possono solo creare confusione e frustrazione.